salve il vangelo come ben sappiamo è parola di vita rivelazione strada via appunto e verità e vita quindi dal vangelo noi possiamo trarre tutto i santi hanno tratto dal vangelo la loro vita sono diventati appunto santi perché hanno vissuto il vangelo in toto se prendiamo un san francesco ogni sua citazione era una citazione evangelica quindi consideriamo sempre che appunto nella via nella verità nella vita quelli che noi chiamiamo miracoli o possiamo denominarli segni secondo il vangelo di giovanni altro non sono che il vivere in maniera coerente ed intensa la parola di gesù ed è per questo che oggi nella rubrica i miracoli di padre pio facciamo menzione di un passaggio evangelico molto importante che è quello della necessità di pregare dove gesù appunto prendendo lo spunto dalla parabola della della signora che era vedova e aveva bisogno dell'eredità da spartire quindi alla bisogno di quel giudice che le facesse giustizia quella vedova un po insistente che aveva bisogno assolutamente che quel denaro fosse dato a lei e quindi il giudice sebbene disonesto compie un'azione onesta di giustizia in base anche a quella che è stata la continua presenza della donna nella sua vita quindi alla stessa maniera anche noi dobbiamo continuare la preghiera quella preghiera che ci porta e ci porterà sicuramente ad avere dei risultati ascoltiamo bene questa testimonianza che viene fatta proprio per far capire quanto sia importante la preghiera grazie nella cronistoria del convento si può leggere questa annotazione stamane la signorina amelia z ceca nata di anni 27 venuta dalla provincia di vicenza ha ricevuto la vista ecco come dopo essersi confessata chiedeva padre pio la vista il padre le rispondeva abbi fede e prega molto all'istante la giovane vedeva padre pio il volto la mano la mano benedicente i mezzi guanti che nascondevano appunto le stigmate la vista è andata rapidamente aumentando sicché la giovane vedeva già bene da vicino riferita la grazia padre pio egli rispondeva ringraziamo il signore poi la giovane mentre nel chiostro baciava la mando al padre e lo ringraziava gli chiedeva la vista completa e il padre a poco a poco tutto avverrà la fonte è quella del sito padre pio punto cattolico web service punto com e ringraziamo anche il gruppo telegram padre più italia per il materiale fornito grazie grazie a tutti